Esprime grande preoccupazione anche la Camera di Commercio di Arezzo per la vicenda di Banca Etruria. Una situazione, dice il presidente Andrea Sereni, molto delicata e da seguire attentamente nelle prossime ore. Gli azionisti e degli obbligazionisti subordinati che hanno pagato pesantissimamente il prezzo di questa ristrutturazione della banca. Come dico, si è conclusa una prima parte, adesso si apre un secondo momento altrettanto delicato. Io vorrei porre soprattutto l'attenzione anche su questa seconda parte, dove dovremmo essere tutti quanti molto attenti perché il futuro della banca complessivamente ancora non è chiaro e definito. Si può intervenire secondo lei su questo decreto? Ci sono spazi di manovra? I parlamentari retini possono fare qualcosa? Sicuramente potrà essere omendato e quindi spero e auspico soprattutto per i risparmiatori, per gli obbligazionisti subordinati e in parte anche per gli azionisti che almeno questa parte venga messa nella bad bank e non portata completamente a zero, dove a mio modo di vedere sarebbe giusto e corretto metterla all'interno della bad bank. La situazione è molto delicata e invito tutti quanti ad essere molto equilibrati. Capisco la rabbia perché è tanta, soprattutto di chi ha perso i risparmi della vita e quindi non ci sono giustificazioni. Quindi è molto importante lavorare su questi emendamenti al decreto che possa attenuare in qualche modo il problema di banca e truori. Grazie.